Tutto pronto per la 42esima edizione della Grifonissima, la storica corsa podistica perugina che si disputerà la mattina di domenica 14 maggio con partenza dalle 8.30 da Corso Vannucci per un'edizione che segna un cambiamento epocale dal punto di vista gestionale e organizzativo. Da quest'anno e per le prossime tre edizioni sarà di fatti la fondazione avanti tutta Deus Ex Machina dell'evento dopo tanti anni di logistica affidata a Circolo Unicredit Umbria che continuerà a fornire un prezioso supporto in termini operativi ed esperenziali. Intanto si corre verso i 600 iscritti per la gara agonistica di 10.5 km e oltre 1000 per il tracciato non competitivo con oltre 60 squadre al via come confermato in sede di presentazione dove, assieme alla macchina organizzativa, erano presenti l'assessore allo sport del comune di Perugia Clara Pastorelli, il presidente del comitato regionale FIDAL Carlo Moscatelli e il presidente coni Umbria Domenico Ignozza. La meditazione è ripartita con un ottimo successo per il momento nella parte agonistica perché abbiamo superato gli iscritti all'anno scorso, siamo oltre 560, credo che chiudendosi domattina arriveremo oltre 600 che sono numeri importanti per una corsa polistica e nell'Erso anche stiamo andando avanti, sono meccanismi diversi da prima, non abbiamo più le agenzie Unicredit che raccogliano le iscrizioni, vengono tutte raccolte alla sede davanti tutta, però abbiamo avuto più di 1000 presenze, le persone sono venute, hanno fatto le donazioni, hanno condiviso la missione di questa fondazione che è una missione importante di sostegno a persone che sono in particolare situazioni di difficoltà, quindi un insieme di cose positive che ci tranquillizza. Centrale sarà ancora una volta la sinergia con lo storico partner Gruppo Grifo Agroalimentare. La nostra collaborazione con Grifonissima fonda le radici nel passato, ogni volta che siamo stati invitati abbiamo ovviamente risposto positivamente, con un grande entusiasmo, lo facciamo anche quest'anno e lo facciamo come dicevi tu con un nuovo prodotto che è Protein, che non deve essere confusa con una bevanda proteica, ma è latte proteico. Qui abbiamo deciso, facciamo questo prodotto, in questa occasione per Grifonissima lo daremo nel pacco gara di ognuno che parteciperà a questa prestigiosa e storica manifestazione che dà lustro alla nostra città. E grande è la soddisfazione della fondazione Avanti Tutta, pronta a dare rinnovato lustro e continuità alla Kermess, attraverso valori e spirito dell'indimenticato Leocenci. Da Perugino, innamorato della sua città, e qui ci metto le parole che mio fratello Leo non può più dire, ma le dice con le mie. Noi amiamo Perugia e con le sue espressioni più belle. La Grifonissima è sicuramente una di queste, che ci accompagna da 42 anni, che quanti possano partecipare con gioia, veramente. E anche chi non partecipa, siccome il percorso è dentro la città, chi sta dentro le case? Ma si affacci alla finestra, faccia un grido di incoraggiamento, o batta le mani, perché secondo me c'è la possibilità di poter dire noi perugini con orgoglio che vogliamo bene la città. E la Grifonissima penso che ne dia l'occasione.